E ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa, siamo qui in DaVinci Resolve 19 dove abbiamo visto sono stati aggiunti tanti effetti. Io avevo voglia proprio di fare un bel video in Fusion e mi ha dato una grande idea l'amico Marco perché tra gli effetti che abbiamo sui titoli abbiamo visto che abbiamo l'effetto Rainbow Test. Andiamo a portare questa clip in timeline, l'effetto è già bello che pronto, se mettiamo in play vediamo passare questo nastro rosso con la scritta, scritta che ovviamente possiamo cambiare e questo è bello effetto possiamo quindi usarlo sui nostri titoli anche sopra le immagini. Abbiamo visto anche da Esplora come possiamo cambiare i colori del testo, del nastro eccetera. Ma l'amico Marco ha fatto una giusta osservazione. Fin che la scritta è piccola non c'è nessun problema perché il nastro entra da sinistra, noi leggiamo la nostra scritta e poi il nastro esce a destra. Ma se noi volessimo sfruttare questa animazione per scrivere qualcosa di più lungo, ad esempio buon compleanno, Sara, i nonni ti augurano eccetera eccetera, cosa succede? Andiamo a vedere. Diciamo che i nodi sono stati programmati bene perché come avete visto il nastro si allunga a seconda delle nostre scritte. Per cui questa funzione è stata veramente fatta bene. Vedete però cosa succede? Essendo programmato in anticipo, intanto abbiamo che corre molto quindi dovremo allungare l'animazione. E ecco qua un po' viene rallentata. Ma notate la cosa che ha notato subito Marco? Noi stiamo leggendo la frase al contrario. Quindi prima c'entra felicità, tanta, augurano ti i nonni. E essendo la scritta molto lunga non facciamo in tempo bene a leggerla. In più si ferma sulla parte centrale e ora uscirà in maniera molto veloce. E questo ci ha reso la scritta completamente illeggibile. Abbiamo bisogno di un qualcosa che entri da destra verso sinistra e scorra. È quasi un crawl che però ha questo effetto nastro. E allora cosa facciamo? Bene, quindi grazie Marco che mi ha dato la possibilità di parlare subito della programmazione di questi effetti già pronti. Perché essendo come vediamo che sono fatti in Fusion possiamo andarli a programmare. Basterà cliccare qui da esplora e entreremo direttamente nella programmazione. Questo assemblamento è un gruppo e cliccando due volte lo possiamo andare ad aprire. Eccolo qua. E anche un altro discorso. Se a noi dà fastidio avere questi nodi qua dentro il gruppo perché andiamo male a cliccare, aggiungere e fare. Potremmo semplicemente premere tasto destro e andare su ungroup. Che ci tirerà fuori i nodi come li avessimo realizzati noi. Insomma eccolo qua. Quindi adesso possiamo intervenire da qualsiasi parte. Bene, adesso allargo un pochino i viewer e adesso dovremo identificare cosa è stato animato in questa animazione e un pochino cercare di capire come funziona. Vediamo un pochino come funziona questa animazione. Come facciamo quando ci troviamo di fronte a un'animazione questa anche molto lineare e semplice? Bene, andiamo a visualizzare il singolo nodo sul viewer. Quindi prendiamo il primo nodo e premiamo 1 e lo visualizziamo qui. Se andiamo sullo shading vediamo che ovviamente la prima voce è la faccia del nostro carattere. Quindi anche qua già potremmo cambiare colore. Vedete che se lo disattivo sparisce proprio il testo. Invece lo shading 2 che normalmente è l'outline in realtà va a creare il nastro rosso. Come hanno fatto? Semplicemente qui attivando come vedete il border fill. Perché io da qua vedete che posso cambiare. E quindi questo è settato normalmente sul 4. Crea questo background. E quindi ecco perché il background segue le scritte. Cioè se io vado a ridurre la scritta si ridurrà anche il background. Quindi anche da qua se vogliamo un nastro più largo per esempio siccome c'è un'estensione anche verticale vedete che possiamo andare a allargare con estendi verticalmente la larghezza del nastro. Quindi abbiamo anche imparato un'altra cosa. Questo invece lo estenderebbe in orizzontale fuori del bordo della nostra scritta. Quindi se non vogliamo un bordo molto più lungo dopo uscita la scritta possiamo accorciarlo qui. Ok. Andiamo a vedere il secondo nodo. È un transform. E già vediamo ancora prima di visualizzarlo che il nodo presenta questo rombo. Il rombo sui nodi rappresenta che questo nodo è stato animato. Se andiamo a vedere gli altri nodi troviamo che questo fast noise è animato ma tutti gli altri nodi non lo sono. Quindi tutti i nodi senza la presenza del rombo sono statici. Sono stati impostati con un valore? Sì. Però poi non è stato animato mentre il fast noise sì e appunto il transform. E visualizzando proprio il transform vediamo se scorriamo sulla penline ruler vedete che abbiamo presente l'animazione. E lo possiamo vedere anche da esplora. Vedete che è attivato un keyframe giustamente sul sender. Se scorriamo vediamo che questo valore sta aumentando per far scorrere il nostro nastro. Vedete che qua il nastro è proprio un 2D piattissimo. E come fa a diventare questo bellissimo nastro svolazzante? Ve lo dico velocemente perché non era questo il tema di questo tutorial ma può essere carino vederlo. Abbiamo un image plane del 3D visualizziamolo e vedete che il nostro nastro con i transform entra sull'image plane. Quindi diciamo che l'image plane è fisso infatti vedete che lui gli entra qui. L'image plane non si sta muovendo è solo grande quanto il nostro schermo per accogliere il nostro nastro che entra. E vedete ancora che anche sull'image plane l'immagine è ancora dritta. Cosa che fa questo effetto di distorsione? Quindi è un displace. Displace eccolo qua guardate quando lo visualizziamo vediamo subito che il nastro viene distorto. E la cosa bella è che la distorsione è un 3D reale quindi l'oggetto è veramente tridimensionale. E questo riceve come input il nostro fast noise. Quindi è il fast noise che sta dicendo come distorcere il displace. Il displace non fa altro che avere una scala della distorsione. Vedete posso ridurla a zero o posso aumentare questa distorsione. Ma quello che crea la distorsione è la maschera bianco nera diciamo bianco trasparente del fast noise. Tant'è che se andiamo qui e cambiamo vedete i dettagli come vi avevo fatto vedere l'altra volta la scala eccetera. Avremo una distorsione diversa. Ok riportiamo tutto normale. Cosa succede dopo a questo displace? Viene ulteriormente piegato perché va dentro un bender e il bender se andiamo a vedere qua è un nodo che permette un piegamento diciamo. Che tipo di piegamento è stato fatto? Un twist cioè un avvolgimento. Se noi insistiamo con questo avvolgimento vedete che il nastro si sta proprio attorcigliando. Guardate così è la distorsione dritta così sta subendo un attorcigliamento. Lo vediamo così ecco in prospettiva si vede molto bene. Se noi aumentiamo a 5 guardate cosa succede. Otterremo proprio un elica. Guardate che simpatico. Ovviamente così non è leggibile però potrebbe essere un ulteriore effetto che andate a fare. Per dare tridimensionalità tutto viene illuminato da questa luce di direzione. Eccola qui. La vediamo. Non c'entra se posta dietro o davanti perché sulla luce direzionale c'entra l'incidenza di questi raggi. Quindi se andiamo sempre dall'inspector cioè dall'esplora perché in italiano questa parte qui. E abbiamo appunto la possibilità di ruotare questa luce. Lo vediamo benissimo sulla sulla nostra figura che stiamo illuminando in maniera diversa. Bene torniamo con un Bender un po' meno arricciolato. Ecco sono andato a fare un CTRL Z per rivedere più o meno l'animazione di prima. E poi vedete l'immagine viene renderizzata e abbiamo l'immagine finale che va a media out. Quindi qua è altro che renderizzare l'immagine. Quindi avete capito che se vogliamo far entrare il nostro nastro da destra a sinistra invece che da sinistra a destra. Dobbiamo andare sul transform che è quello che fa entrare il nastro ok? Allora come facciamo? Facciamo così andiamo all'inizio cliccando qui. Spegniamo questo così disattiveremo il keyframe. Lo riaccendiamo. Spostiamo la nostra scritta fuori a destra. Attiviamo questo keyframe qui. Andiamo alla fine. E poi spingiamo la scritta in fondo fuori a sinistra. Andiamo all'inizio di nuovo e guardiamoci l'animazione completa. Questa operazione la dobbiamo fare dopo che abbiamo fatto la lunghezza della scritta perché così sappiamo quanto dobbiamo trascinare fuori la nostra fascia per farla scorrere tutta completamente. E ecco qua. Vedete che questa volta entra da destra e va a sinistra. Attenzione che l'elaborazione così è molto lenta perché la deve tenere in RAM. Quindi per vedere la velocità corretta usciamo fuori e ecco qua abbiamo la nostra scritta alla velocità corretta. Adesso io ho fatto un bel twist, avevo distorto un po' eccetera. Voi potete tenere il nastro un po' più dritto, distorcerlo meno eccetera. Però vedete che abbiamo la scritta che scorre nella giusta direzione. Per quanto riguarda la velocità, essendo che abbiamo impostato noi in OUT, se accorciamo non avremo l'accorciamento anche della scritta. Dobbiamo intervenire nei keyframe. Quindi andiamo qui e sul transform sotto fotogrammi chiave, aprendo, vedremo i nostri due fotogrammi che rappresentano quanto tempo sta a scorrere questa scritta. Prendendo l'ultimo fotogramma e spostandolo avremo la scritta che andrà più veloce. Eccolo qua. Quindi dovete trovare una velocità che consenta alla frase di essere letta. Se facciamo così la rallentiamo, se facciamo così la acceleriamo. Quindi se io voglio un po' rallentarla faccio così. In più ho le spin line, sulle spin line, spegniamo i keyframe, questi sono i punti del movimento lineare della fascia. Se io voglio un movimento più morbido, posso sottolineare questi punti e dare una curvatura. Così qua parte più lenta, va a una velocità normale e verso la fine rallenterà. Andiamo a rivedere l'effetto. Abbiamo un effetto ease in, ease out. Vedete, parte lenta, scorre normale e verso la fine rallenterà un pochino. E quindi questo ce lo fa un po' più morbido. Bene, io spero che questo vi sia piaciuto. Fermi, fermi, non scappate. La prossima volta dovrete rifare tutto. Seguitemi. Eh sì, proprio così. La prossima volta che andrete negli effetti e cercherete di nuovo Ribbon, dovrete ricostruirvi la vostra scritta che entra da destra. Ma seguitemi che vi insegno come salvare il setting. Quindi andiamo in Fusion. Ecco la nostra bella programmazione. Andiamo a sottolineare tutto. E andiamo qui sugli effetti. Cercate Title e cercate il vostro effetto Ribbon. Vedete, comunque non importa. L'importante è essere in Title. Premiamo questi tre pallini e facciamo Show Folder. Cosa succede? Ci verrà mostrata la directory dove vengono salvati i titoli. Vedete, nella cartella Titles. Copiate tutto questo entrando dentro e fate CTRL C. Ora tornate qua, sottolineate tutto. Premete tasto destro e fate Setting, Save As. Su questa cartella incollate in alto l'indirizzo e premete Invio. Ora vi trovate proprio dentro la cartella dove sono salvati tutti gli effetti di titolazione. Quindi salviamo questo nostro fai setting, magari con Ribbon, non so, invertito, tito da destra verso sinistra, come preferite voi, e fate Salva. Ritorniamo sulla Edit Page. Sulla Edit Page, per vedere il nostro effetto, vi consiglio di spegnere effetti e di rientrare. Ora andate su Titoli e ovviamente cercate con la lente Ribbon e guardate Ribbon invertito. Quindi non c'è l'immagine perché non abbiamo inserito, bisognerebbe inserire anche una piccola immagine. Però se volete farlo è una piccola immagine PNG con lo stesso nome del file. Quindi dovreste inserire in quella cartella un'immaginina con scritto Ribbon invertito, magari copiandola dal Ribbon test normale. Ma facciamo che ci accontentiamo, basta prendere questo, trascinarlo in Timeline, andiamo in Fusion e andiamo a collegare il Media Out, l'ultimo nodo al Media Out, è l'unico discorso. E ecco qua il nostro Ribbon invertito, senza doverlo riprogrammare. Un altro trucco è quello di prendere qui il nostro Ribbon e metterlo nei Power Bing. Quindi nei Power Bing, se ci facciamo una cartella, ecco come la mia, effetti franco, possiamo trascinare questo e metterla qua dentro. In questa maniera non servirà a fare nulla, basterà andare sui Power Bing effetti franco e ecco qui il nostro Ribbon invertito pronto a disposizione. L'unico problema è che non essendo una macro, ma è una programmazione, se vogliamo cambiare la scritta dovremo andare all'interno della nostra programmazione e scriverla qui sul testo. Bene, quindi questo diciamo era un passaggio in più, ma per risparmiare ogni volta di riprogrammare i nodi. La prossima volta vedremo anche come creare una macro e quindi magari riottenere tutti i controlli così anche dalla Edit Page. Grazie, ciao a tutti, mettete un bel like, mi raccomando, e fate come negli altri video che avete commentato così mi lasciate un bel feedback su queste cose. Ciao, grazie, alla prossima! Tutorial Sei sempre al top Diventa un pro delle viti, balla sulla pista, segui il mio tutorial, fa oscillare la tua vista. Franco Tutorial Il maestro delle viti diventa un pro delle viti, niente ti ferma a questo ritmo frenetico.